Musica Piccoli ma importanti passi in avanti da parte di Provincia Bat e Regione Puglia per far ripartire il progetto relativo al primo stralcio dei lavori di messa in sicurezza della SP2 a Canosa di Puglia dopo diversi anni. Dopo aver presentato in Regione la variante in diminuzione e dopo due incontri specifici con i tecnici della Provincia Bat, la questione è stata sottoposta anche all'ANAC per verificare alcuni prezzi delle opere. Entro la prossima settimana dovrebbe arrivare un parere da parte dell'anticorruzione per poter poi consentire a Provincia e Regione di far definitivamente ripartire i lavori che riguardano un primo tratto canosino della pericolosa strada provinciale tornata purtroppo agli onori delle cronache in primavera a causa di numerosi incidenti mortali. Nel frattempo comunque sono stati eseguiti dei lavori urgenti di messa in sicurezza con pulizia, sistemazione dei New Jersey e nuovo asfalto in alcuni tratti ma questo naturalmente non basta mettere definitivamente in sicurezza la strada. Sempre sulla SP2 ma in questo caso nel tratto tra Andria e Montegrosso procede invece l'iter per veder realizzata la rotatoria per l'accesso alla borgata in modo definitivo. È arrivato l'ok della Regione a una variante nel progetto iniziale ed ora si potrà procedere con la conclusione della procedura amministrativa. Prima di veder partire i lavori che consentiranno l'accesso lato monte e lato mare alla borgata oltre che all'installazione di impianti di illuminazione essenziali per rendere più sicura quella rotatoria.